Parte il pallone di Urbano, il rilancio della metà campo della Samb, ancora però la propatria Migliorini. Parte Tinazzi, riesce a recuperare la correa, il tocco centrale per Morini, ancora Morini, Sambi in avanti, il tocco per Camarata! Camarata in area, Camarata! Gol! 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 Gol di Camarata! Gol di Camarata! Il pareggio 1-1, incredibile, miracolo, il miracolo di Camarata che è riuscito a infilare Anadia, il gol dell'Esto, un grande gol, un grande gol, l'assist di Morini e Camarata non ha perdonato, Anadia, gran gol a parte di Camarata, l'1-1 della Samb, quando siamo giunti al 92esimo minuto, ancora due minuti da giocare in sofferenza, il cuore Samb, passa ancora, passa ancora il cuore Samb, Rumignani incredibile, si è alzato dalla panchina, grandissimo Rumignani, straordinario, il tecnico Sobbluma, incredibile, al 47esimo minuto, Camarata, ha piattato la zampata, Camarata di sinistro ha gelato lo Speroni di Bustartissio.